Ciao, sono Gianluca Bocci e oggi in questo video in cui comunque vi parlerò di questa mirrorless micro 4 terzi, sono qui in particolare per dire grazie a una persona, grazie a Lorenzo Ermigiotti di Tribù e Web News e Clickblog, eh sì, vi ricordate cosa è successo a fine 2017-inizio 2018? Eh sì, Clickblog è il sito in cui ho iniziato a scrivere e su cui si trovano tuttora 1200 e passa dei miei articoli, è fallito, però è andata bene, ovvero Tribù appunto Lorenzo Ermigiotti ha rilevato e quindi Clickblog è ancora vivo. Non solo, Lorenzo Ermigiotti mi ha voluto con sé anche sulle pagine di Web News, infatti la prova di questa Panasonic Lumix DC-GX9, insomma per i miei amici GX9, la troverete sulle pagine Web News, vi lascio il link qui sotto in descrizione appena l'articolo sarà online, completo di tutte le mie considerazioni su prezzo, immagini di prova e via dicendo. Ma iniziamo appunto a vedere questa piccolina più da vicino. Allora, ecco qui la nostra GX9 vista più da vicino. Allora, una linea vedete molto mattoncino, linee molto squadrate, tutti gli elementi rientrano nella sua linea. Abbiamo questo merino orientabile verso l'alto che onestamente io ritengo un po' inutile, nel senso che sono pochissime situazioni in cui ci serve un merino per puntare verso l'alto considerando che abbiamo anche il display che possiamo orientare verso l'alto, quindi dobbiamo fare una foto verso l'alto, ci mettiamo così e la facciamo ugualmente senza bisogno del merino. Avrei onestamente risparmiato sul merino orientabile, avrei preferito invece come era sul modello precedente, orientabile in avanti. Qui se vogliamo fare un selfie o un vlog, dobbiamo passare per il wifi, bluetooth comunque, fatti davvero molto bene e utilizzare quindi l'app dedicata su smartphone. Poi sempre nel design, interessante, il flash a scomparsa che io adoro in questa modalità perché basta utilizzare un ditino per farlo diventare un flash di rimbalzo verso l'alto. È piccolissimo, numero guida 6, però comunque sempre meglio avere un flash che non averlo. Poi ovviamente se vogliamo utilizzare un flash esterno abbiamo comunque la slitta sempre libera. Qui sopra vedete i due forellini per i microfoni, purtroppo abbiamo soltanto questi. Ottima la qualità in video come sempre in tutte le Panasonic, tastino dedicato, molto comodo, vedete davanti quello di scatto, subito dietro quello per le riprese video. Quindi in posizione comoda, ma microfono soltanto questo qui integrato. Nessun microfono esterno, uscite cuffie, neanche a parlarle. Le connessioni sono soltanto queste, poi con questo stupendo sportellino, seguite bene, devo tirare di lato e dopodiché vedete scompare l'interno. Fatto molto bene, quindi non dà fastidio, non c'è il rischio di sbatterci e spezzarlo quando è aperto. Abbiamo la micro usb che fa anche la ricarica, cosa utilissima, quindi andiamo in vacanza con lo stesso cavetto e ancora ricarichiamo i cellulari, magari quelli vecchi. Con micro usb ci ricarichiamo anche la fotocamera e l'uscita micro HDMI. Per il resto ergonomia davvero piacevole, due ghiere, una a portata d'indice, una a portata di pollice, coassiale alla ghiera delle modalità di esposizione abbiamo quelle per la compensazione, cosa che io adoro tantissimo. È anche molto comodo la posizione della levetta di scatto, perché così accendiamo, quindi con una mano riusciamo a accendere, spegnere e controllare tutte le impostazioni della fotocamera. Tantissimi tasti a disposizione, questa è quella per scegliere il funzionamento del mirino, mirino con sensori di prossimità, ecco vedete, abbiamo la operazione di ottrica, la levetta per la scelta della modalità di messa a fuoco, possiamo bloccare l'esposizione, tasti funzioni personalizzabili 1, 2, 3, più i tasti personalizzabili 4, 5, 6, 7, quindi una fotocamera che davvero possiamo cucirci addosso. Il touchscreen è comodissimo, non soltanto per la riproduzione, ma anche per la scelta, vedete, della modalità di messa a fuoco. E in generale di questa fotocamera c'è da dire che c'è una facilità davvero ottima nel fare le cose. Vi faccio vedere adesso un attimo un dettaglio su questa funzione che si chiama composizione sequenza. Andiamo! Allora, prima di mostrarvi questa composizione sequenza vi faccio notare un piccolo difetto di questa fotocamera. Posizionata su un piano non sta perfettamente in piano. Soluzione banale, una moneta a 2 centesimi posizionata sotto l'ottica, così rimane nettamente più stabile. Dopodiché andiamo su modalità avanzamento e scegliamo Foto 4K, che è un sistema tanto banale quanto geniale per avere appunto una raffica da 30 fotogrammi per secondo. Ovviamente sarà un fotogramma ognuno da 4K, ma sono 8 megapixel, quindi effettivamente ci possiamo stampare un 20-30 e anche un 30-45. Dopodiché messo a fuoco manuale sul nostro bus londinese versione Lego. Dopodiché con un dito premo il tasto di scatto e con un dito muovo il nostro bus. Quando levo il dito, lui mette un po' per elaborare, ma doviché ci permette di andare a scorrere i singoli fotogrammi e se vogliamo prenderlo singolarmente e andarlo a salvare. Mi è più interessante andare sul menu, sulla riproduzione, troviamo appunto composizione sequenza. Mi chiede di scegliere quale foto 4K andare ad elaborare. Dopodiché con le frecce scegliamo il primo fotogramma successivo. Vedete questo simpatico effetto fantasma. Il secondo fotogramma, ok, successivo. Il terzo e ultimo fotogramma, ok e diciamo salva. Ci metterà un minuto ma qui ovviamente velocizzo. Ed ecco qui il risultato. Simpatico e soprattutto facilissimo da ottenere. Ma andiamo a vedere degli altri risultati ottenuti con questa GX9. Bene, parlando di risultati iniziamo subito da questo bel retratto della mia bimba Agnese a cui potremo andare letteralmente a contare i baffi. Ovvero le classiche foto che poi quando Agnese sarà grande per questa foto oderà suo padre. Andiamo avanti. Andiamo a vedere una foto del 2 giugno sul monumento dei caduti. Particolare per me per queste nuvolette che erano esattamente sopra il monumento ai caduti. Comunque si nota il bellissimo contrasto e la bellissima resa dei colori. Sempre nella stessa situazione per chi dice che le mirrorless sono incapaci di sfocare. Poi qui in realtà abbiamo un'ottica che si è compartata di per sé molto bene questo 12-60 ma l'apertura è un 3-5-5-6. Comunque come vedete con questi veterani un minimo di resa del sfocato, del bokeh, insomma effettivamente c'è. Andiamo ancora avanti. La mia classica foto di prova che utilizzo da sempre e qui se andiamo davvero a ingrandire si vede appunto che di dettaglio ce n'è tanto, anche troppo su queste ringhiere compare un po' di moire. Si pronuncia così? Moire? Moire? Insomma ci siamo capiti. Andiamo agli scatti e alle varie sensibilità ISO. Qui vediamo praticamente che da 200 a 1600 ISO siamo assolutamente perfetti. Tra 1200 e 64 si inizia a notare riduzione del rumore ma sono scatti ancora utilizzabili. Si è perso soltanto il dettaglio più fino, più fine. Mentre se saliamo a 12-8-25-6 sono scatti esclusivamente da emergenze. Passando a vedere un brevissimo ma davvero brevissimo spezzone video con le mie bimbe che giocano con le bolle. Si apprezza comunque l'autofocus continuo che lavora molto bene così come lo stabilizzatore che è il Dual IS cioè lavora sia a livello di sensore su ben 5 assi sia quando abbiamo come in questo caso un'ottica stabilizzata i due stabilizzatori lavorano insieme ci danno quasi l'illusione di stare utilizzando un gimbal. Ma a questo punto andiamo alle pacelline. Allora pacelline iniziamo come al solito da quanto mi piace. Allora sicuramente una delle cose più azzeccate di questa piccolina che poi in realtà tanto piccolina non è è l'ergonomia. Un'ergonomia onestamente non ai livelli della fantastica GH5 di cui vi rimando qui sopra la prova però effettivamente c'è un piacere di utilizzo davvero eccezionale. Tante leghiere complete per tempi e diaframmi quando andiamo a esporre in manuale. Abbiamo appunto la levetta per la scelta materiale messa a fuoco, abbiamo la ghira dedicata alla compensazione cosa davvero stupenda e possiamo personalizzarcela con tanti tasti di disposizione. Il touch è presente ed è un ausilio sempre prezioso. Poi un dettaglio ma lo sportellino a scomparsa per l'usb e l'hdmi le trovo davvero geniale. Spesso i sportellini di gomma danno fastidio, quelli rigidi che rimangono aperti rischi di spezzarli inadvertitamente. Questa è una soluzione interessante sia come design sia come funzionalità. Poi una facilità d'uso davvero incredibile. Ottenere risultati particolari come appunto abbiamo visto le sequenze, come andare a fare un timelapse, andare a fare uno stop motion, andare a fare foto subito piacevoli, video che sembrano fatti come un gimba è una cosa effettivamente fantastica. Infine la qualità immagine ci mancherebbe e quello che ci aspettiamo da ogni fotocamera c'è, c'è davvero. Ma passiamo a quello che non mi è piaciuto. Allora sono due cose. Vi dicevo all'inizio, lui ha questo mirino orientabile verso l'alto. È uno dei tratti distintivi della serie GX ma secondo me assolutamente inutile e mi spiace davvero tanto che rispetto al modello precedente hanno eliminato il monitor orientabile anche in avanti. Quindi se dobbiamo farci un selfie o un vlog diventa più complesso, dobbiamo utilizzare lo smartphone collegato appunto con la sua app in wifi o bluetooth. Seconda cosa, siccome video li fa molto bene, li fa anche in 4k 30p, il fatto di non avere un ingresso per un microfono esterno, quindi con un microfono di maggiore qualità di quello integrato, a me spiace. Tutto qui. Quindi è una fotocamera che vi consiglio. Se volete acquistarla trovate come sempre il link qui sotto in descrizione. Qui sotto vi ricordo troverete anche il link all'articolo completo sulle pagine di Web News. Se vi è piaciuto comunque questo video mettetemelo un bel mi piace qui sotto. Se non siete iscritti, potete rimediare il bollino e l'inalto come un altro dei miei video, ve lo lascio come sempre qui a fianco. E quindi da Gianluca e dalla GX9, ciao e alla prossima!